Carovoli, la storia è infinita con la regione che continua a tentare di metterci una pezza, perché la regione potrà aumentare le risorse da destinare agli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti in Sicilia grazie a nuovi fondi stanziati nel decreto legge proroghe. Per il 2023-2024 si potrà passare dagli attuali 27 milioni e mezzo di euro previsti a un totale di 33 milioni e quanto dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani commentando l'approvazione dell'emendamento che stanzia 8 milioni di euro per aumentare la dotazione del fondo Insularità in modo da garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per le due isole maggiori. In particolare, aggiunge, l'assessore regionale alle infrastrutture a Ricò saranno assegnati alla Sicilia 5 milioni e mezzo di euro che il governo regionale utilizzerà per incrementare le somme a disposizione degli sconti per tutti i residenti che voleranno da e per gli aeroporti siciliani verso Roma e Milano. Lo sconto previsto dalla regione sarà del 25% e potrà arrivare al 50% per studenti disabili con almeno il 67% di invalidità e per chi ha un ISEE inferiore a 9.360 euro. Il presidente Schifani inoltre esprime vivo apprezzamento per l'adesione ufficiale di ITA Airways all'avviso della regione per l'applicazione automatica dello sconto sui biglietti aerei per i residenti nell'isola e per la decisione di aumentare, raddoppiandoli il numero dei voli da Palermo e Catania per Roma e Milano durante il periodo natalizio. Schifani a tal proposito sottolinea il rinnovato clima di collaborazione istituzionale che si è instaurato con il nuovo management della compagnia di bandiera.